Vedete qui sul palco, lui gioca praticamente in casa, abiti a 6 km da qua, 6-7 km, a chi basso? Giusto? Quindi gioca praticamente in casa, diversi anni con l'orchestra di Franco Bagutti, lui si chiama Simone, suona la chitarra e se vorrete fare un bel applauso sulla fiducia sarebbe straordinario, sarebbe bello, sarebbe meglio, eh? Allora noi, però adesso l'applauso te lo devi anche meritare perché ti metteremo alla prova con la sua chitarra, beh ci farà ascoltare due grandi successi di uno dei più grandi chitarristi, Carlos Santana. Signore e signori, per voi Simone. Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.